Ciao ragazzi, io sono Falconer, oggi sono qua con un nuovo episodio di The Arbillions per... Non lo so, fare qualcosa di importante. La prima cosa che devo fare è fare soldati come se non ci fosse un domani e direi che potremmo cominciare da 5 sniper, tanto per cominciare, in modo tale da levarci intanto un problema. Per il resto ho bisogno di tanti altri soldati, anche perché le nostre fila si sono fortemente ridotte. Avremmo bisogno di ricercare le ultimissime cose e c'è rimasto solo l'advance mill. E lo facciamo, qui stiamo creando 5 titan. Abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, vanno potenziati i quarry in modo tale da avere un po' più di risorse. Converrebbe fare qualche casa per cui buttiamo giù queste capanne, cioè facciamo le case di pietra. E per il resto, l'unica cosa, forse potremmo andare giusto qua giù a vedere un po' se riusciamo a liberare il liberabile. Tant'è che appunto converrebbe prendersi questo pezzo qua, giusto per fare un ulteriore scatto avanti. Dunque, lo voglio fare di legno in maniera tale che non ci siano grossi problemi in caso di perdita. E non posso fare niente perché ci manca l'oro. Vabbè, intanto andiamo un po' a pulire sotto. Ecco qua. Andiamo a ripulire con calma e tranquillità. Dai. Forzi. Lasciamoli lì. Ragazzi, ecco, se vi svegliate pure voi con i Thanatos è meglio. Cominciano ad essere tanti. Cominciano... Ce la facciamo però. Secondo me ce la facciamo. A occhio ce la si fa. Sì. Ok. Chi è morto? Che non ce l'ha fatta. E... Allora. Avanziamo? Ok. Qua la cosa sta procedendo discretamente. Allora, adesso che abbiamo un po' di soldi in più, io direi... Vabbè, intanto facciamo l'Advanced Meal. Lo facciamo qui. Poi mettiamo in preparazione altri soldati. Potremmo fare due normali. Poi potremmo fare... Non ho abbastanza produzione di olio. Benissimo. Potremmo farci la... Torretta Tesla. Così da prenderci quest'altro pezzettino qua di terra che ci serve per... Per prenderci quel giacimento petrolifero là. Io confido che lo possano difendere come si deve. Prendiamoci l'oro che ci serve. Ok. Così noi qua ci facciamo adesso. Un'altra bella struttura perché io adesso subitissimo... Adesso che ho fatto quello... Noi mettiamo un'altra cosa qua. Questa poi la leveremo così ci facciamo un'altra base... Qua, iperprotetta. Tipo un piccolo avamposto che era quello che volevo fare l'ultima volta. Qua loro se la gestiscono comodamente, secondo me. Qua ci sono tre lucifer, lo sniper è pronto. Se questo riuscisse a finire sarebbe una gran cosa. Vabbè basta che non lascio fuori lo sputacchione e poi dormo sereno. Ok. Allora, pausa. Andiamo di difesa... Ferocissima. E mettendo, mettendo... Potremmo... Ma sapete che quasi quasi io mi prenderei solamente... Vabbè no, facciamo una cosa per bene. Allora. Facciamo un lavoro... Un lavoro di fino. E così prendiamo... Prendiamo tutto. Qua chiudiamo ancora. Qua richiudiamo. Ecco. Così ci facciamo... Potremmo mettere anche una torretta qua. Tanto perché tanto legno ne abbiamo in quantità... Industriali. Così possiamo chiudere. Mettiamo un paio di sniper nei luoghi che ci interessano. E prendiamo un po' più possesso di quella che è tutta la zona esterna. Mi sembra un ottimo modo di procedere sinceramente. Allora. Adesso che abbiamo questo. Io farei un'altra torretta Tesla qua. Così da prendere pieno possesso di tutto quello che è il quartiere... quartiere penisoletta. Poi chiuderemo qua. Chiuderemo qua. E ci prenderemo tutta la parte esterna. Questa abbiamo tre giacimenti nuovi. E dello spazio per legna e fattorie. Che possono essere particolarmente utili alla causa. L'importante è mantenere... Gli angoli... Che ci servono. Allora io intanto qua... Farei uscire un soldato. Soldato e lo portiamo qua. Ok. Le nostre difese sono sotto attacco. C'è qualcuno che le difende? No! Non c'è nessuno che le difende. Fermi un attimo. Perché non c'è nessuno che le difende? Andiamo a difende queste difese. Scusate un attimo. Noto... Noto un afflusso anomalo. Perché noto un afflusso anomalo? C'è qualcosa che non sta quadrando. Allora intanto potenziamo tutto qui. Se ce la fate mi fate un enorme favore. Un enorme favore. Un enorme favore. Ok. Qua stanno... Quello è veterano. Qui stanno arrivando già. Perché stanno arrivando già? Allora... Cerchiamo di ragionare un attimo. Allora noi ci servono dei muri... Che siano stabili. Quindi... Qua va bene. Qua devo chiudere. Tanto qua ci interessa solamente il giacimento. E una volta che l'abbiamo preso non ce ne va a frega di meno del resto. Qua ci facciamo il muro di pietra. Tanto per avere una via d'uscita. Tocca andare tipo a... A compartimenti stagni ormai. Allora qui c'è il soldato e va bene. Qui stiamo reggendo e stiamo potenziando. Qui bisogna mettere un'altra... Tesla. Per poter poi andare a chiudere. Ma... Mi converrebbe metterlo qui. Mi stanno arrivando troppi credo. No però sono abbastanza tranquilli. No li gestiamo. La li gestiamo. Qua li gestiamo. Lì l'abbiamo già gestiti. Il panico è rientrato. Per cui posso chiudere. Qua è un delitto chiudere vicino al giacimento ma... Toccherebbe tipo richiudere un'altra volta. Non lo so. Devo vedere un attimo. Vabbè intanto capiamo qua come chiudere più che altro. Vabbè qua me lo fa fare però. Allora qua serve un cancello però. Io faccio un altro cancello di piedra tanto. Male non fa. Così siamo belli... Belli solidi anche qui. Tanto pietra ne abbiamo. Allora qua è potenziato. Qua è potenziato. Poi le case ci sono. L'energia anche. Ovviamente adesso ragazzi questi ultimi... Queste ultime fasi di lavorazione saranno un po' lente probabilmente. Ma confido che... Se riesca comunque a... A fare dei passi avanti perché ci serve... In maniera abbastanza viscerale un passo avanti. Allora. Se io qua riesco a chiudere... Ok. Torre Tesla fatta. Per cui chiudiamo anche qui adesso. E io chiuderei... Molto alla buona. Nel senso che tanto... È una zona che ci interessa sì ma... Fino a un certo punto. Ci saranno altre case. Perché la cosa un po' mi preoccupa. Qua chiudiamo. Poi. Altri soldati raga. Altri soldati. Me lo state dicendo in tutte le salse che devo... Che devo rafforzare un po' i ranghi. Io non so più... Qua ci stanno i Titan che sono pronti ad agire. Qua ci sono i soldati vicino alla balista. Altri due soldati. Il cecchino. Diciamo che... Siamo abbastanza tranquilli. Qua ci sono altri... Altri soldati. Devo farne di più. Devo farne di più. Quindi mi serve il giacimento petrolifero tipo adesso. Lo potremmo già fare. La piattaforma qua. Qua migliorerei. Così abbiamo un'altra cosa. E vi dirò di più. Radar tower no. Vorrei. Questo executor mi intriga un casino. Ci potremmo mettere una radar tower qui? Intanto per gradire e capire... Con chi abbiamo a che fare. Potremmo metterla tipo... Qua. Ok. Poi... Qua c'è la cosa. Va bene. Comunque è veramente spettrale la situazione. Vabbè qua... Potremmo ipotizzare di avanzare un po'. Io però ho il sentore di un'orda imminente che mi mette un po' d'ansia. E... Per cui vabbè qua così. Io però ho bisogno di qualcosa che rallenti. Eventuali. Nemici. In arrivo. Quindi la trappolina... La possiamo mettere... Ho finito i soldi. Bene! Mi fa piacere. Vabbè io però devo chiudere qua. Devo chiudere qua. Lì stanno facendo. Perché se no... Serve veramente a poco. E... Lo so. È un delitto chiudere là. Per cui chiudo qua. Poi eventualmente... Ci penseremo poi... Ha come prendere pure quel giacimento lì. Ma io ho bisogno di questo. Adesso. Dunque. Mano d'opera l'abbiamo. Che almeno ci siamo guadagnati questi pochi metri in più che servono. Radar tower. Svelami qualcosa di decente. Ma... Pensavo peggio. Sinceramente pensavo molto peggio. Devo dire che sono anche discretamente contento di ciò che ho visto. Ok. Oh... Vedi che... Piano piano. Poi soldati ancora. Via via ancora. Produzione continua. Allora. Io direi di fare i quarry qua. Vabbè. Quarry non l'abbiamo. Intanto possiamo iniziare con quello leggerino. Tipo iron 3, iron 2, iron 4. E stone 4. Lui lo facciamo andare dentro. Così fa la guardia. Giorno 85 per adesso. Sembra tutto abbastanza tranquillo. E... Non ho niente per potenziare nulla. Io ho bisogno viscerale di andare un po' avanti. Allora. Liberiamo un po'. Bonifica, bonifica. Bonifichiamo su. Com' vorrebbe fare un altro soldier center? Giusto per avere una doppia... Una doppia fonte di soldati. Tipo un manipolo qua. Tanto per... Signori. Si bonifica. Forza. E... Li mandiamo qua. Forza. Allora avanti. Quest'altro dietro. Forza. Una pattuglia leggera. Tanto per gradire. Poi, poi, poi. Dai. Siamo decisamente messi bene. Io voglio fare questo soldier center. Cosa manca? 20 di pietra. Perché stiamo sempre carenti in pietra? Siamo sempre carenti in pietra. È una sorta di maledizione divina. Non si riesce a dare un senso logico a questa vita triste che stiamo vivendo qua. Ah, ma qui è chiuso. Ma non mi dite. Ma non mi dite. Aia. Est. Sempre da est. Ma sempre da est devono venire. Ma è possibile mai? Vabbè. Siamo messi bene. A parte che è tipo una zona poco difendibile. E la cosa non mi piace. Ma... Va bene. Uguale. Allora. Io direi di portare i Titan a casa. Ovvero qua. Ci arriveranno mai? Ma va tipo mai nella vita. Allora. Arretriamo. Molta calma e serenità. Tu inizia ad approprie in quarti. Per cortesia. La costruiamo una Great Ballista anche lì? Exeggutor. Ecco. Vediamo un po' se Exeggutor che sa fa. Ehm... La metto da est. Quindi arriveranno da qui. Io non ho lo spazio per fare una cippa. Ehm... Lo potrei tentare qua. Ma è un azzardissimo. Perché se loro vengono da qua... Cosa molto probabile. L'effetto è praticamente nullo. Devo allargare un po'. Ragazzi. Devo... Devo prendere qualche altro pezzo. Io potrei metterlo... Dove cazzarola lo metto? Ma dove cazzarola lo metto? Ehm... Calma. Calma e sangue freddo. Allora. L'Exeggutor... Io devo capire dove può essere un punto utile alla causa. E non c'è. Ragazzi. Non c'è. Non c'è un punto utile alla causa. Bene. Vabbè. Ehm... Famo senza. L'importante è che voi entriate però. Perché se non entrate... È un problema. Perché se non entrate... È un problema tipo serissimo. Però scusate. Per non sapere a leggere e scrivere la Great Ballista. Però io la posso fare. No. Manco quella. Che zona. Ehm... Vabbè. Ok. Sono già arrivati? Andiamo a salvare tutto il salvabile. Ok. Signori. C'è bisogno di voi. Ma non c'è bisogno di esporsi. Fatta affari tua. Ecco. Oh porcaccia la miseria. Oh porcaccia la miseria. Che cazzo non lo fanno gli sniper qui? Abbiamo gli sniper con dei problemi comportamentali abbastanza marcati. Guarda che bordello. Mortarci possa. Sono morti tutti quegli altri. No vabbè. Ehm... Io... Non so che cosa dire. Quest'altro che sta vicino al nemico e lo guarda. Ragazzi qua... Cioè loro erano qui. Santo cielo. Erano qui. Erano. Perché il comando vai qua si è tradotto in... Buttati nel vuoto e suicidati. Non ha senso. No. Io ho perso tutto quello che ho fatto prima. No. Ci deve essere stato qualche problema. Perché non è possibile. Cioè per quanto la routine del nemico possa essere stata illogica. Non ha senso che per arrivare dal punto A al punto B sia uscito facendo il giro largo. Cioè non ha logica quello che è successo. Perché è successo? Non lo so. Vabbè. Ehm... Voglio, voglio piangere tanto. Perché era tipo la scorta di tutti i nostri sniper che è andata su. Perché? Perché? Devo rifarli da capo. Santo cielo. Benedetto. Vabbè. Io preferisco tacere perché altrimenti se parlo, se parlo finisce tipo malissimo. Del tipo che mi bannano tutto il bannabile. Ehm... È meglio che non dico niente! Non devo dire niente! Taci, bocca mia! Bocca mia, taci! Io non so che... Non, non, non... Più io rifletto e più non comprendo. Ehm... Vabbè. Io direi... Onde evitare cose di quel tipo? Mettiamo i titan a difesa di tutte le zone drammatiche? Oh, ci riesce a camminare dritto? Grazie. Ecco. Uno qui. Un altro qua. Uno lo mettiamo qui. Uno lo mettiamo... Ah! Consumano pietra le cose, è vero. Un altro titan lo mettiamo qua. Ne voglio avere uno in ogni parte, così siamo abbastanza tranquilli. Un altro titan lo mettiamo qui. Che fa... Che fa pandan. Ehm... Gli sniper stanno bene lì. Bene. Poi qua potenziamo questo quarry perché serve tipo come il pane. Ehm... Bene. Ok. La produzione di pietra è tipo altissima e la cosa è devastante. Poi qua facciamo le mura di pietra, sì. Poi... Poi, allora, obiettivo di adesso tipo prendersi sta parte qua perché ci serve altro iron. Quindi qui mettiamo un'altra torretta Tesla tipo qua. E facciamo un altro angolo. Qui va bene. Eh, la fase di pianificazione è terribile. Ma io con due titan dovrei essere abbastanza tranquillo adesso. Poi... Altri soldati per cortesia. Magari questi facciamoli con un cervello funzionante così evitiamo da vedrami come prima. Andiamo a ripulire, forza. Vai, vai. Puliamo il pulibile. Stanno arrivando a frotte. Ehm... Mantene la posizione. Dai, dai, dai. Sono troppi. Arretrare. Siamo esposti troppo. I Lucifer stanno per morire. Bene, i Lucifer sono morti, credo. No. Non c'ho mai fiducia in loro due. In loro tre, anzi. In loro quattro. Quanti siete nascosti attraverso la stessa animazione? Sono quattro. Vabbè, io devo liberare la parte qua. Comunque c'è un'altra... C'è un'altra... Un altro gruppo di ville, raga. Non c'è... Lucifer! C'è questo fuori! Te ne occupi! Grazie! Capisco che... Sia complicato, ma santo cielo, benedetto! Allora. Allora, allora. Boni tutti in attimo. Mettiamo delle... Delle... Mura. Ancora mura. È tutto un muro. Sta... Sta... Sta cosa. Qua non c'è energia. Io comunque... Il raggio... Il raggio di queste dannatissime cose... Mi manda al manicomio. Veramente mi manda al manicomio. Perché è limitatissimo. Io sono costretto a fare... I muri inutili. Per semplicemente guadagnare un po' di spazio. Adesso... Ecco. Così abbiamo la doppia cosa. E qua ci mettiamo un altro advanced quarry. Oh... Stone 8... Stone 17! Pia tutto! Di corsa! Allora. Poi qua... Dovremmo chiudere. Serve un altro coso. Oh santo cielo, benedetto. Ehm... Lo mettiamo... Qui. Ecco. Così magari riusciamo a prenderci pure quella parte. Se io riesco a prendere sto giacimento e a proteggerlo... Abbiamo svoltato. Per sempre. Cancello di pietra. Altre unità. Il tempo qua passerà... Troppo velocemente. Io già lo so. Mandiamo uno sniper. Anzi due. Perché qua c'è un pezzo di legno? Ok. Il quarry dovrebbe garantirci un vantaggio abbastanza marcato. Poi facciamo un po' di case. È il momento di costruire case. Per quanto qua ci sia un po' un problema... Allora. L'advanced mill... Ehm... Potremmo vedere... Ah no scusate. Ma se io potenziassi quelle che ho... Ecco. Senza star lì a fare i salti mortali per crearne di nuove. Già ci abbiamo. Bene. I soldi sono finiti un'altra volta. Ma che bello! Ma che bello! Allora. Ehm... Mura. Pietra. Costruire. Bene. Queste qua non servirebbero più. Lì va bene. Bene. Così qua siamo tranquilli. Qua ci facciamo una bella... Ehm... Balista. Tanto per dormire sereni. Ecco. Andiamo a stare un po' più tranquillo. Poi... Ehm... Io farei un'altra... Non ho più denaro. Bene. Farei un'altra balista qua. Che non lo posso fare. Bene. Dovremmo allargarci in quel punto. Ma non lo possiamo fare. Perché al momento non abbiamo le risorse necessarie. La pietra la stanno costruendo. E la stanno raccogliendo. Per il primo momento del gioco. Da quando abbiamo iniziato. Finalmente c'è qualcuno che fa qualcosa. Che gioia. Le cose stanno girando. Continueranno a farlo. La mia speranza è quella. Ma la vedo molto male. La vedo molto male. Ma tipo tanto male. Ehm... Io vorrei vedere giusto se riusciamo a fare un paio di quarry. No. L'advance quarry non me lo fa fare. Ci servono case. Ci servono case. E potremmo fare a pezzi questi. Uno. Due. E tre. E al suo posto ci mettiamo. Queste. Una. Due. E l'altra. A me mancano i soldi. Vabbè. L'importante è che si vada avanti. E... Io penso che comunque siamo belli avviati. Da sta parte siamo coperti. Da quest'altra parte ci sono due sniper e quindi va bene. Qua potremmo anche levare un soldato e metterlo qui. Tipo tu puoi andare qua. Cambia casa. Qua ci vorrebbe... Qua ci vorrebbe... Qualcos'altro. Tipo... Un'altra balista. Giusto per stare un po' più tranquilli. Converrebbe... No. Qua non serve perché è chiuso. Diciamo che... Che se io bonificassi sta parte... Potremmo stare relativamente calmi. Volendo. Perché se noi ci accorgiamo per dire che qua non ci sono fonti di pericolo... Io posso mettere un bel muro qua. Abominevolmente grande. E noi abbiamo risolto una vagonata dei problemi senza senso. Se là c'è una casa sicuro comunque. Là non può non esserci una casa. C'è un quartiere residenziale dei loro che... E' allucinante che non facciamo una lira mai. Signori! Lo sputacchione! Per cortesia! Niente. Stiamo perdendo un paio di Lucifer. Mi sa che un paio vanno. Uno l'abbiamo perso. Sicuro. Possiamo evitare di perderne un altro? Sputacchione! Ore... Non so cosa. Ore nove. Ripariamo tutto. Ragazzi. Lo famo un passetto avanti? Mamma mia. Cosa succede qua? Vabbè. Stanno arrivando gli sputacchioni da nord. Ma non ci frega niente. Qua si sta creando un bel marasma. Ma che non mi piace. Ma tanto dovrebbe essere chiuso. Per cui non c'è problema. Qua ce ne so troppi. Qualcosa non quadra. Qua cominciano veramente a essercene troppi. E la cosa mi preoccupa. Non mi piace quel che accade. Sputacchioni! Ok. Dai, dai. Cerchiamo di capire la fonte del sto schifo. Certo che i ciccioni sono delle cose devastanti. Ma ragazzi qua. Ahia! Hanno preso un Thanatos. Tocca rifarli quelli là. La spedizione è troppo corta. Eh niente. Questo mi sa che... Il Lucifer è compromesso. Mi sa che tutti sono compromessi. L'abbiamo fatto uscire troppo deboli. No, devo... Pausa. Pausa. Bisogna rafforzare un po'. Eh... Allora io farei uscire tutta sta gente qua. La portiamo... Qui. Dove siamo scoperti. La portiamo qui. Dove siamo scoperti. Poi. Dobbiamo fare un altro po' di... Titan. E un paio di Thanatos. Qua ci sono altri uomini e va bene. Qua bisogna partire con una spedizione di quelle serie. Aia! Oh ma sono tutti spudacchioni. Niente, l'abbiamo persi tutti regà. È andata. Troppo pochi. Troppo pochi. Decisamente troppo pochi. So... So uscito troppo a... All'acqua di rose ed è finita malissimo. L'ho veramente buttati quelli. Eh vabbè. Ogni tanto. Ma che cavolata è inevitabile farla. Peccato. Bene. Allora. Adesso che abbiamo un po' di uomini qua. Io ne metterei... Dunque un paio di sniper. Me li riporterei dentro però. Insieme a dei soldati li mettiamo qui. Giusto per avere una fonte di sicurezza qualora ce ne fosse bisogno. Diciamo che è un po' problematico. Nel senso che abbiamo bisogno di fare di più. Più unità. Più soldi. Più... Più tutto. Io ho bisogno di mettere... Di mettere un'altra banca. No la banca c'è dove stanno le case. Ma più di quello. Ma che devo fare? Facciamo un'altra casa. Che non ho i soldi per fare. Ma adesso li avremo. Tra tipo poco. Ok. E direi che fatto questo io per adesso mi fermerei. Perché non c'è granché altro che io possa fare in questa fase. Se non rafforzare un po'. Visto che adesso abbiamo tanta pietra. Per cui possiamo occuparci dell'ottimizzare un po' tutto quello che abbiamo. E... L'unica cosa che posso fare è un po' quello per ora. Poi potenzieremo tutto. Dobbiamo rafforzare l'esercito. C'è un sacco di lavoro da fa. Ne avremo per un bel po'. Per cui ragazzi qualsiasi consiglio come sempre ben accetto. Io continuerò a fare soldati come mi avete suggerito un po' tutti. E speriamo bene. Ciao ragazzi.